5 vai 30 sinistra 4 sudosso vai per accenno sinistro e destra 6 vai 100 sinistra 4 tieni alla casa sinistra 3 e destra 3 e subito sinistra 3 lascia vai 30 sinistra 5 lascia 80 dosso in destra 3 lunga chiude un dino 50 sinistra 5 lascia vai vai 100 sinistra 5 e occhio chicane destra che sfiga cazzo vai in sereno chicane destra sinistra 5 30 sinistra 4 sfiora in destra 3 lascia e destra 3 in sinistra 4 e subito attenzione in versione destra in versione destra destra 4 lunga lascia 30 sinistra 3 taglia e occhio sinistra 2 tieni sudosso 80 destra 4 sale inizia l'umido sinistra 3 lunga tieni 50 accenno destro dopo dosso destra 3 lunga e al cartello occhio in versione destra 50 destra 4 lascia in sinistra 5 lascia 50 sinistra 6 50 e occhio sinistra 4 rotta lascia e subito sinistra 5 entra sudosso 80 destra 4 tieni e entra sinistra 5 stai centro 50 allo steccato destra 3 lascia 80 e ai cartelli scicca in destra dosso in sinistra 4 lascia poco 50 scende destra 4 e subito sinistra 4 in compressione tieni 80 80 destra 4 tieni e ai paletti destra 5 lascia 30 dosso in sinistra 3 tieni chiude 2 chiude 2 50 e attenzione stacca destra 2 occhio interno in sinistra 3 tieni in destra 3 tieni in sinistra 3 lascia e occhio scicca in destra entra sinistra 3 lascia 50 dopo dosso sinistra 4 tieni e sinistra 4 tieni e al muro destra 2 lascia vai 50 acceno sinistro e occhio alla ringhiera destra 2 destra 5 occhio alla casa destra 3 tieni molto tieni molto e sinistra 5 e vai 100 volta attenzione stacca destra 2 tieni molto e subito sinistra 2